Buongiorno, sono lieto di annunciare che parte con la Domenica di Pasqua il progetto Nessuno Escluso. Grazie a questo progetto gli Angelus, i Regina Celi e le Catechesi del Mercoledì saranno del Papa, saranno accessibili nella lingua dei segni, nella lingua dei segni italiana e nella lingua americana dei segni. Saranno possibili attraverso i canali YouTube di Vatican News, un canale indiretta per la lingua dei segni italiana e un canale indifferita per l'American Sign Language. Tutto questo partirà a Pasqua e avrà un carattere sperimentale di un anno. Le traduzioni saranno coordinate da Sor Veronica Donatello, responsabile del Servizio Nazionale della CEI per le persone con disabilità. Nei prossimi mesi lanceremo anche una app che sarà accessibile per le persone con disabilità sensoriali e che permetterà di soffrire in modo integrato di tutti i contenuti dei media vaticani. Questo sarà possibile grazie al contributo del Pio Istituto Sordi di Milano, della Children's Blind Mission, missione italiana per i ciechi nel mondo, del St. Francis Borgia Death Center of Chicago, del Fronde from Vatican Radio, Amici di Radio Vaticana, come l'anno scorso poi anche quest'anno in collaborazione con TV 2000 sul canale YouTube LIS ci sarà la traduzione in lingua italiana dei segni di tutte le celebrazioni del Trido Pasquale. Grazie, grazie davvero a tutti.